come stai tutto bene ho giocato giocato bellissimo è veramente una bomba no ganzo veramente assurdo mai non è nemmeno fatto finì no fifa è veramente un gioco non è capito no ma il calcio alla fine lo sport e gli italiani perché comunque l'italia ma sempre fatto qualcosa col calcio inimmaginabile confronto il resto del mondo non serviva una spiegazione alla cosa per forza semplicemente ok ho forse già individuato il talent però io non vedo voi non vedo voi come mai rimani così un attimo rimani così un attimo e che non ti vedo ancora sì 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 ok ti dovrei vedere adesso marco ecco di qua non ho parole ciao marco bella faccia di culo è we are we are frogs allora se dobbiamo fare questa cosa vi prego il talent se mi non dovete calmi dovete stare calmi dovete stare calmi io sono guarda è quel tic 0 7 su di giri siete su di giri siete su di giri no io sono dovete dare una di calmata sembra che avete bevuto sette caffè contemporaneamente ehi 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 amico calmati un po fratello si mi sembra di rivedere gianandrea dove sono mai smorale se l'aria con la gianandrea mulia nell'aria tu sono un gianandrea lo sapete che ho doppiato spiderman si non l'ho mai detto e bene è la prima volta che lo rivela al pubblico no l'ha rivelato anche non fa gli orgasmi e non simula gianandrea questo l'hai detto te non ha detto che gianandrea ho finito l'imitazione adesso sono quello che ho detto io che non lo fa quindi non è non c'è nessun problema in quello che ho detto che è che è quella cosa te stai bene marco così ma non è vero stai bene vuol dire che stai male togli di quella cosa dalla testa mi faccio un attimo dei suffetti anime anime sì coglione non darmi del coglione non darmi del coglione come avrei come avrete capito marco torna come guest star in questa puntata di talent scout e con nostro grande piacere benvenuto grande marco l'ha chiamato mario vabbè tutto sbagliato sì non serviva l'applauso sono concentrato sul pisello dentro il culo concentrato sul talent da trovare non il pisello dentro al culo quello ride perché si specchia con quei ciuffi di merda non riusciamo a comporre un'età maggiore in tre madonna madonna sì non c'è niente da ridere non c'è niente da applaudire come va marione col palinzesto tutto bene tutto bene col palinzesto dario come sempre procede che lo pubblico e che lo faccio ma io posso dire che ultimamente ti sto guardando con interesse perché credo che effettivamente la tua attività sia ad esempio per tutte le racing stars di assolutamente sta raggiungendo un apice che prima non aveva mai raggiunto queste sono parole fatte a caso con facce indignitose grazie ragazzi i complimenti amici ci stiamo soltanto complimentando sembra che mi stiate prendendo in giro non sembra che mi stiate facendo i complimenti su come va manda avanti il palinzesto poi il palinzesto ce l'ha anche dario quindi non l'ho tolto io ma che l'hai tolto ce l'hai fissato su instagram l'hai pubblicato nuovo no 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 basta ti voglio fare una domanda precisa mario se io morissi saidonia sarebbe contento cento per cento per cento pure tu ma che ne sai non lo sa nessuno con una sicurezza proprio olimpica te non lo sappiamo se saidonia sarebbe contento ma come lo sappiamo mario perché lo sappiamo con certezza che saidonia sarebbe contento per la morte di dario moccia arrivano questi indizi da notizie che ci arrivano alle orecchie che fanno veramente un profilo psicologico di saidonia come un verme no scusate no scusate marco quali informazioni delineano come vermico saidonia no quelle cose la sai allora facciamo così dimentica che te l'ho chiesto e andiamo avanti con quest'argomento senza colpo ferire per favore eppure te che gli dai corda è colpa tua e non è colpa di marco io ho detto nulla ma viene sfuggita la notizia di quando dario si era fatto c'è per un attimo ha detto in live ragazzi devo parlare basta abbonamenti se non arriva l'audio lui si è subito precipitato a scrivere a spammare un certo da lui allora venite a me allora venite a me no 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 è falsità no no non te lo ricordi perché non esistita questa cosa se veramente volesse gli abbonamenti di dario non lo direbbe così ad alta voce potresti forse non era dario cosa togli di quell'affare dalla testa marco togli di quell'affare dalla testa cioè l'intelligenza no 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 la rana la rana il coso di 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 seta della rana e te sediti sulla sedia e non fare il twerking che cos'è fatto te eh nulla nulla allora io sto cercando il talent che mi sa che ci siamo eh guarda l'audio si bravo non smettiamo di stupire da rione grazie io una cosa più normale tantissimo per il bene del format mario invece aspetta semplicemente i soldi in attesa così no 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 è proprio è proprio no 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 questo poi è la tipica allargata danno di dario moccia non centro dai siediti composto per favore non è non è un'imitazione conforme non è un'imitazione ma poi pensa che altissimo quindi guarda pensa il ponte di brooklyn formato formato in negativo marco mi stanno passando il discord si stanno passando il discord questa è la serietà che diceva Dario poco fa è difficile lavorare così infatti ti devi sedere composto no nel senso in questa società così sì 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 tu gli dai corda ti fai gli assist giusti va bene oh ma ce la diamo una mossa pure non riesci a trattenere le risate no mi fa male la gola ah la gola ti fa male sì perché è arrivato l'inverno non so se stai non sta imitando amurant Dario ragazzi non riesco a capire perché lo diciate sono finiti talent non ci sono più talent non mi scrivere cioè io non sono mandato un ma che c***o dici che sono talent Mario ha detto questo cercare un attimo di prendere con l'orecchio veramente no era un e retorico marco avevo capito che avesse detto riniti stanno bene i capelli novi comunque a Mario bravo grazie Dario grazie mille avete visto la sigla della ragazza che ha fatto la cover ha aggiunto il testo sì lei è carinissima bellissima cover no Mario che cos'è di che parli no no scusami Marco ma sono abbastanza concentrato sul fine frase di Dario precedente chiudi la bocca bro dai ha detto che è carinissima che c'è di male no ha detto che è carinissima ha lasciato la faccia da troll face ma è perché è toscano ha quella impostazione vocale da giustificare qualsiasi atteggiamento per la toscanità basta no ma io sono pieno di persone che mi dicono Mario tu mai buttana e scusa mi capisci mi sono toscano non c'entra la prima volta che io utilizzo questa cosa qua quindi non è esci dal tuo mondo digitale non è un mondo digitale non è un digimon ed entra nel mondo vero tu hai il cervello in pappa Kirby non guardarmi dai Marco quel modo di portare i capelli è orribile tirati tirati i ciuffi all'indietro per favore nascondetili nel coso della rana di che parli Mario? i ciuffi che ti sei fatto i ciuffi volutamente orribili che ti sei messo davanti la faccia ma non se vuoi bodiscemarmi possiamo farlo anche ma che c***o c'entra il bodi sto parlando dei capelli eh c'è chi piacciono chat hashtag capelli eh e volete supportarlo voglio proprio vedere come scrivono capelli in questa strana maniera che hai detto te forse lui lui c'ha una bella faccia da c***a vediamo un po' se ah meraviglioso puoi ospitarlo qua vede che l'hai chiamato faccia di c***a prima di farla entrare mi sembra un'ottima idea chiamarlo così Dario magari sei un po' di buonsenso capisci che Dario sta scherzando insopportabili insieme voi due eh veramente insopportabili siamo in tre in chiamata Marco siamo in tre io e te? sì no io tu l'uomo rana è quello che fa gli assoli invisibili c'è l'uomo rana eh ma cos'è l'uomo rana rana c***o di cappello della rana non ha nessun cappello cioè questo vi pur di giocare a fifa non risponde cioè non risponde fa ma non è lui ma non è lui intanto non risponde che faccia da c***o ma come non è lui c'è lo stemma del partner no? ma non ce la fanno a capirlo sono talmente particolari basta dai fermati qua particolari va benissimo ah senti visto che siamo qua questa storia del cannone Dario? che vuol dire? mi hai taggato in una storia su instagram dicendo che vuoi spararmi da un cannone sì sto cercando un circo che abbia un cannone dove buttati dentro e fatti sparare non è facile eh non sarà facile ma verso l'aria o contro qualcosa? no che vorrei farlo all'idroscalo scusami Marco ma contro dove mi dovrebbe sbattere col cannone Dario? un muro così muori Mario non sono abituato a questo grezzume non ti sei visto l'ultima live del Cerbero allora non so perché l'ho detto no 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 io invece ho capito benissimo no no non so niente io non so niente ok 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 non so mai niente dico le cose sei stato ospite una settimana e mezzo fa per la cosa con Liccardo non è successo nient'altro ultimamente bellissima dai dai andiamo avanti andiamo avanti ok zitto un attimo che caco nel puzzo che cosa ha detto che fa? che cerca il talent ha detto caco nel puzzo Marco non che io abbia sentito no 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 non fanno diventare Dante Alighieri adesso non che io abbia sentito si è diplomato in una scuolaccia sono un influencer ho un sacco di soldi sono un influencer sono troppo famoso sono un influencer quello che dico è legge sono un influencer a rivel 4 dai che hai detto alla fine? che ho un sacco di fame mi sa che mi prendo un deliver non coincide mai quando ti richiedo di ripetere la cosa la cosa che hai detto prima mi sta chiamando il boss? ah ok ok ci ha mandato su oh no eccolo la lo sapevo è proprio il momento il momento ti ho portato roba di primissima qualità no 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 ciccio ti non è non è è un personaggio è un personaggio ciccio dai del caso parlando Marco ti sto inviando il canale di discord arrivo eh THC infinito no no THC infinito è sbagliato pronto? te lo becchi dai te lo becchi anche tu eh sì sì se poi spaccare le casse in due ah fra poco ragazzi poloverino 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 te lo becchi ciao me ne lo becco ti do te lo becchi già 400 volte cosa sta succedendo qui? ma che cosa sta succedendo? Marco non riesce a attivare la cam anche ragazzi perché devono staccare la live ragazzi staccate la live ho staccato la live allora riesce rientra dai prova un attimo per essere te lo piglia discord se no disinstalla disco no no non gli dà sti consigli ciao ciao piacere Mario comunque ciao piacere piacere Federico e Letizia qua ciao ragazzi piacere di conoscerti piacere piacere nostro poloverino poloverino te lo becchi eh sì signori te lo becchi eccoli ciao posso levare questo sfondo di merda sì dove è Marco? ciao arriva Marco Marco aspetta aspettiamo Marco ho inviato io ho inviato il link discord ma era entrato non riusciva ad attivare la web e l'arrivo Marco prova un po' adesso attivare la cam che ci siamo? to signal ok ma che cos'è quello? che cos'è quello Marco? ti prego metti la cam ma che cazzo video era quello? ma che cazzo fai durante le ore del giorno tu? ma che cazzo fai durante le ore del giorno? è la seconda volta che vedo la tua cam aprirsi con la tua enorme pancia ma che cazzo... in chianto parli ragazzi benvenuti a talent scout eh sì ecco questa è uno sfogo perché ci abbiamo messo tanto dai Dario siediti ce l'abbiamo fatta siediti e cominciamo siediti e cominciamo ce l'abbiamo fatta buonasera ciao ragazzi potete ripetere i vostri nomi giusto per Letizia Letizia e Federico perfetto ok allora ragazzi benvenuti benvenuti in talent scout aspetta che c'è il covid il covid? il covid mi sembrava il segno di un libera tutti libera tutti come stai l'ha fatta apposta allora ragazzi benvenuti in una nuova puntata di talent scout che cos'è Federico Letizia e talent scout perché è molto importante state attenti allora sono interviste a persone che hanno pochi spettatori che stanno emergendo ok mi stai dando dello scarso quindi nooo siediti emergendo con dal mondo di tutto per penetrare canali più grossi e farsi vedere per far vedere quali sono le vostre qualità quindi a un certo punto è spuntata quella mano ok bene grazie ottimo ottimo prego Dario dai Dario dai che ce la fai? semplicemente vi intervisteremo per capire chi siete per conoscere eccetera bene bene ragazzi non abbiamo nemmeno iniziato non è nemmeno partita la prima domanda allora ragazzi parto io con la prima domanda così metto un attimo le ok cosa che cosa che cosa fate ma soprattutto che era quello? eh? forbici se forri no intendevo il gesto ascoltate ragazzi che cosa che cosa fate e che cosa vorreste fare? magari c'è qualcosa che non si era ancora oh ma che reazione è? dai bene chi parte? vado io? il canale è il suo quindi io direi Federicozza di Dio si chiama Letizia Letiziozza di Dio scusate allora prego vai fai il preambolo io sono un umile ospite nel canale emergente di Federico quindi vero è successo sì partendo oh sì ho aperto questo canale un anno e mezzo fa così per ridere per divertirci ludico sì ludico esatto super ho appena visto il bersaglio con fercette là dietro sì wow con il muro tutto distrutto perché non sono molto bravo quindi la domanda che è sulla bocca di tutti se voi voleste succhiare la fama a una coppia famosa di internet però poi muore quella coppia però la quella fama diventa vostra quale coppia scegliereste? se lo stava chiedendo nessuno ma adesso ovviamente se lo chiedono tutti però ovviamente vogliamo i hobby quindi rival e mid no vai ma non è proprio una coppia di internet io ho Fedez e la Ferragne cioè vorreste vederli morti? sì no per dire no si scherza ovviamente si scherza no non si scherza si 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 anche perché ecco ci siamo e quindi no no sta bene adesso noi prendiamo la vista no basta dirla boh forse me contro te ottima scelta ma come mai se posso chiedere sempre per quella cosa della insomma dell'altra parte cioè voglio diventare come loro se loro fanno quella fine no mi hai chiesto quindi vorresti ma quanto che lo invento te e Letizia quindi vorreste fare un prodotto per bambini che parli ai più piccoli anche non è quello che facciamo adesso sicuramente e non è quello che farò io quindi che Letizia cosa vuoi fare dicelo un po' infatti vedo questa revisione topicale come topicale diversi topic io niente quello mi sembrava un anno eh vai Letizia scusa se non era italiana cosa vorresti fare Letizia io non cioè non ho queste particolari proprio quindi ah voi vorresti fare un lavoro cosiddetto normale ordinario chiamiamolo così se vogliamo proprio fare i figli di buttana proprio mentre invece dall'altra parte la controparte maschile se ti ripeti in un maschio cosa vorresti fare io vorrei fare quello che già faccio ma magari con più seguito quindi giochi trash reaction a cosa attribuisci la mancanza di seguito che ti attanaglia oddio mi attanaglia adesso ho modo di dare che esagerata non lo so sai probabilmente quando faccio le live da solo o meno seguito sicuramente di quando ho l'ospite non mi chiedo anch'io il perché di questa cosa mi meraviglio mi meraviglio potete vedere il pisello su tweet certo che no certo che no ma l'ho detto quando l'ho detto prima in live che vorrei farlo vorrei farlo perché vorresti farlo così come gesto estremo ma vedi che ti bandano eh lo so ma infatti quando dico basta invece che chiudere semplicemente ah la bellezza proprio un bel piselloni il pisellone al massimo voi siete fidanzati no 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 perché quello che ha la bellezza se no purtroppo no ha detto lui l'ho aggiunto io siete amici da sì da un anno ma cade male come hai detto purtroppo no perché uno ci prova e cade male no 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 lei non ha mai provato assolutamente stai calmo tu Marco tra l'altro porti degli occhiali anche tu in questo momento mi sembra stranissimo ne ha sei ora Marco l'uno con l'altro perché a Letizia a Letizia diciamo la verità fai vomitare cioè questo è quello che ti ha detto lei no aspetta non è vero Letizia no assolutamente no io non è il tuo tipor allora tre la di bello di uno e tra tre lì dell'altro esatto siamo una buttata di teletubbies però Letizia Letizia prima spiegaci cos'è che non ti piace di Gianfranco Federico buttana della miseria Federico i nomi qua no perché non mi entrano in testa sì sì certo ovviamente Letizia scusa avevi detto assolutamente no poi sei stata interrotta cioè assolutamente no non è che è un cesso a pedali Federico volevi spiegarti meglio non è una latrina piena di merda ecco questa qua ne è approfittato chiaramente Letizia ti prego di smentire ti prego di smentire no smentisco dicendo che ormai lo vedo come un fratello ecco vabbè che risuola greco vi direbbe grandi però a parte questo ascoltate i miei amici ma scusa perché un fratello un anno e poco di amicizia non è mica così tanto però ci vediamo ogni settimana praticamente fate tutto amo ognuno fa le sue esperienze quello che fanno amici tranquillamente insieme senza finire quindi fate fate tutto quello che fanno i fidanzati senza scopare praticamente no no ecco Letizia puoi dire altre tre cose che non fate che i fidanzati fanno esatto Marco grazie per aver completato ma Letizia non ne ho la minima idea non sei mai stata fidanzata? sì una volta allora una minima idea diciamo che la cosa è fanno tutti i fidanzati italiani tutti è prendere a selciate la nonna voi la fate insieme no no non conosco nessuna coppia che lo fa minare criptovalute? separati quello quello sì nemmeno io aprire un management di talent truffare i talent e poi chiuderlo? che è quello che sta accadendo adesso no 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 ma che ma che no 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 posso ha quelle mani Marco posso fare una domanda io cioè per esempio tu avevi detto che non ti precludi altre scelte sì sì tu Federico ma Letizia ovviamente può partecipare alla risposta in questo momento siete insieme non mi precludo altre scelte nel scusami un attimo Federico è la seconda volta che spari un per forza tu bro è la seconda volta è la seconda volta perché c'è il mio amico Marco vabbè non c'è bisogno di giustificare l'ho preciso soltanto quanto a Federico e a Letizia se doveste fare un format per bambini come lo chiamereste? insieme o io da solo e lei da solo insieme bellissimo nome no no era una domanda non era il nome del format non era il nome del format che c***o fai tu c'era il programma dell'ex moglie di Maurizio Lostanzo che aveva il programma insieme quindi mi sa dovesti scegliere un altro nome i me insieme a te a me piaceva i me insieme a te mi ricorda qualcosa Federico mi ricorda qualcosa sembra quasi un occiolino è la concorrenza proprio quanto a Letizia tu hai detto che tu non è propriamente il tuo mondo tu sei più affacciata su mestieri più ordinari che intrattenitivi hai detto giusto? però dici quali esatto qui la gente sta impazzendo sì 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 volevo fare la stessa domanda non mi interrompere Letizia scusa no prego è anche giovane quindi ancora sì molto giovane no io sto studiando psicologia ma anche quello non è il campo mio Poloverino quanti anni mi veresti? eh? non lo so non lo so domanda ancora complicata c'hai un copricapo di rana fatto di lana ma come puoi ideare un'età per te Marco? eh l'ho chiesto a Letizia Letizia puoi Letizia senza la S finale quanti anni dai a Marco c'entra allora tra così lo sparo una mi faccio vedere all'impiede 31 vicino ma ma ne ho 34 vabbè io invece Letizia anche qua a età casuale ti dico 30 precisi ci sta Gianfranco ascolta ti voglio fare una domanda a proposito però dell'amicizia fidanzamento eccetera ma te per te Umberto non è fastidioso il fatto che vorresti tromballa ma lei no cioè come fai ad essere amico di una persona che effettivamente vorresti mangiare viva mentre lei proprio dice Lucio oh ha rotto io sono come dire testone capito perseverante quindi però sempre educato nella tua perseveranza giusto assolutamente sì assolutamente sì però capito insisti domani però per te Letizia non è fastidioso questa questo moscerino della carne possiamo chiamarlo a me non ha mai alcun rispetto è bravo a nasconderlo però ti vorresti un po' più forse no un po' più di intraprendenza cosa mamma mia il gioco il gioco sembra gambit ma sentite la gente non ne può veramente più di questo brutto nome di questa brutta applicazione discord quasi fa spesso la pace l'amore discord non va più bene un nuovo nome a discord che ricorda la discordia chiedendo nessuno un articolo sul tiriano oggi su questo vai invece di discord come lo chiamiamo stavo per dire me contro te di nuovo ma basta ma perché ma non l'ho capito ma è la terza volta che dici me contro te federico un fetish posso avere un fetish ma ci sta jonathan però no 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 tu non ti devi permettere te non ti devi permettere che è successo che è successo dice sempre ci sta che è successo chi c'è chi c'è che succede boh è terremoto vada a riattaccare le luci strano arrivo eh arrivo eh vabbè comunque blanca stavi dicendo qual è il nome che daresti a discord alternativo dici prego prego non ce l'ha con lei tu sicuramente più creatività eh non lo so me l'hanno bocciato il primo quindi boh lo chiamerei con un nome di un social già esistente per confondere le cose siamo ancora a discord va bene dalsim però allora non so se hai notato ma ultimamente sui social impazzano questi guru guru della finanza no criptovalute piccioni salterini insomma io ho Federico non dalsim ok ti volevo chiedere te se dove te hai un capitale un pa cioè una somma di enaro molto importante per poter iniziare un commercio sui mille duemila euro per esempio che commercio cioè dove ti butteresti quale sarebbe il commercio dei tuoi sogni il business della tua vita beh ormai ho detto che credo in tu quindi li butterei in tu molto probabilmente no non hai capito un c***o ma scusa scusami 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 non l'ha semplicemente capito ripeti la domanda senza senza imbestialismo mi piace anche quindi Carlo Azzelio Ciampi allora ascoltami ma Federico Federico non è così difficile un commercio nuovo lascia perdere i social lascia perdere me contro te lascia perdere Martifello ti prego lasciali perdere davvero ok scusa un commercio nuovo cioè voglio aprire una bottega di c***o che cosa apriresti carino la bottega di c***o dai ti rispondi io andrei sulle scommesse sugli animali un centro di scommesse di lotta fra animali ma quale animale le galline se proprio devo scegliere ma c'è ma scegliere un altro ma hai detto tutto ciò che ti circonda dai no mi sembra soggiratissima perché in Sicilia si dice tipo le WWE delle galline c'è una roba ok in ogni vicolo di Santa Puerto c'è un commercio di galline no di Sanità Puerta non in america ah quindi televisionare lo scontro delle galline vuoi renderlo proprio un bello in mondo visione è illegale però in Italia già lì troveremo il modo le scamotage ma noi abbiamo NordVPN che ci fa cambiare proxy e ci fa guardare quello che c***o no ragazzi cliccate sul nostro link link da rimocia per poter accedere a quello che si chiama bibitone bibitone hai emulato un c***o però altro che bibitone comunque volevo fare una domanda sia sia a Letizia che a Federico Federico visto che Letizia è lontana da questo mestiere cosa ti ha portato a invitarla in live Letizia cosa ti ha portato ad accettare creando questo binomio se la vuoi trombare te lo dice da 20 volte ma penso che non sia soltanto perché se la vuole trombare scusami sono amici questo tasto io l'ho conosciuto da 30 minuti in 30 minuti mi ha mandato 20 frecciate che fanno capire esattamente questo ma magari mi sbaglio una percezione sbagliata la mia allora faccio soltanto la domanda a Letizia cosa ti ha portato qui in live dai non lo so in questo momento me lo sto chiedendo anch'io però non lo so me l'ha chiesto ho detto ma si dai perché tu sei sempre stata molto nerd no diciamo abbastanza dentro il mondo davvero e allora dovrei farti qualche domanda qual è il tuo gioco preferito è tornato Dash di Pokemon Revolution boh a caso qual è il tuo video gioco preferito Letizia non ho capito il tuo video gioco preferito eh cosa c'è da ridere scusate non è collegato alla domanda Dario cosa ti ha fatto ridere così tanto ma sta non sta ridendo Mario ah sta piangendo vero Marco chissà che gli è successo le facciamo rispondere a Letizia sta ridendo sta ridendo non si sta riprendendo da ridere lascia stare Dario lascia stare Dario Letizia Anciarte ti hai detto quale l'uno il due ladri per sempre o la la vecchia scuola due la vecchia scuola non lo so se se c'è però va bene Dario è morto non è morto cioè Dario o andiamo avanti oppure ci riprendiamo Dario comunque ti piace Uncharted? sì ci siamo lì? ma cosa c***o è successo? certo ok ci sono ci sono ragazzi ok te ci sei? è veramente un brutto episodio di Dan Scout West il peggiori di tu o il migliore da punti di vista la vecchia scuola va bene allora ragazzi no invece il tuo fumetto preferito l'edizio? diciamo che ho iniziato da poco in entrare nel mondo dei fumetti ma tra i miei preferiti c'è quello del corvo cioè il corvo ah ok the crow sì crow scusa coglione non darmi del coglione soltanto perché sbagliate una pronuncia tu sbagli tu sbagli a parlare italiano e se sbagli a parlare inglese io sulla dizione mi parli così l'inglese è più famoso l'italiano quindi se tu sbagli non c'entra nulla la fama qua non c'entra nulla la fama delle cose troviamo hai visto anche il film Leti con Brandon Lee con il corvo sì a me è piaciuto il corvo bello molto bello ma bene sai che Brandon Lee è morto durante le riprese del film che non è la curiosità che diranno tutti cioè nemmeno Pro Dolly ascolta che cosa c'è c'è Marco che è rimasto di stucco Marco ma come è morto eh sì sì è morto comunque ragazzi eh beh parliamo di qual è il tuo genere preferito per esempio video ludico video ludico eh oh non lo so a me piacciono molto i videogiochi non so come si chiamano ma a scelta come EveryRain sì gli interattivi sì tutti interattivi Mario e videogiochi e ma come si chiamano quelli lì quelli lì si chiamano aperti secondo me sono tutti aperti e si chiamano interattivi testa di testa di mamma mia che insulti va bene qual è il tuo preferito di quelli là scelta interattivi detroit become human ah per forza no 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 che succede che per chi hai la crash Connor no sì è la mia crash che cazzo ehi scusami è che veramente amo Connor Letizia se dovessi fare un viaggio dove ti piacerebbe andare è tornato va bene a Disneyland c'è mai stata a Parì? a Parì? o New York non c'è a New York vabbè comunque a Parì non c'è mai stata? ancora no ma fatti portare qui da Papa Wojty li ha fatti portare un attimo no no il punto è che non si ricorda come si chiama è per questo che lo chiama così dai portami un po' nemmeno io quindi volentieri andateci eh sì sì prima o poi prima o poi in una ipotetica tier list delle canzoni Disney quale mettereste in tier S? eh ragazzi spondi un po' io Disney prego esperta però mi piace quella che mi piace sì mentre invece l'edizione non lo so al momento non beh ragazzi voglio prendervi a bastonato non so che c***o sapete stasera è davvero ma fatevi di eroina no non fatevi di eroina Federico faccio dopo la live no no non vuol dire dopo la live è più giusto non fatevi di eroina e basta Federico visto che scarseggiano le domande sui talent Dario adesso ti fa un bel domandone sul tuo canale che si è un po' sviato stasera vai Dario è vero ti prego invece le altre volte rimanevamo sempre in topic è vero allora guarda me ci sono devi scegliere una dittatura no vabbè vado a nozze eh voglio sentire voglio sentire una dittatura da applicare in Italia ma dai deve scelto o deve scegliere da lui no no sceglie lui ok dimmi dimmi finisci pure qual è quella che preferiresti abbracciare ma posso creare un tipo di dittatura nuova o ne devo scegliere una dal passato devi devo io da grande amante di tutto mi piacerebbe che uno streamer in particolare sia a capo di tutto ma proprio in maniera dittatoriale che quindi mi dica cosa devo fare la mattina e se volessimo scegliere lo suo dittatore chi sarebbe quindi posso fare il nome dello streamer è cognome è cognome devi è blu quindi è molto facile sono un suo grande fan so che è molto commerciale direi si vede si vede da cosa si vede Dario da cosa si vede dall'entusiasmo dal sorriso dall'entigine come blu si si dai pen sono uno dei suoi fan più vecchi tra l'altro come età credo certo tu lo segui da quando ne aveva 200 250 di iscritti immagino no 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 assolutamente dico come età io sono uno dei più vecchi visto che ok ma qualsiasi ne avete quanti ce ne dai 23 e 22 secondo me Letizia ne ha 19 e tu ne hai 21 grazie comunque entrambi e Marco cosa no scusate non volevo chiedere domande opportune a Marco chiedimi tutto quello che vuoi amico la vostra età indovina ah la vostra età Mario aveva detto 19 Letizia e Francone 21 io penso io penso sì io invece voglio fare 20 Letizia e 22 Francone ma con te più o meno ci sono andati vicino con me hanno proprio sbagliato però io 22 oh ragazzi a me invece che età mi date date che età mi date scusate oh dai dai fallo riflettere non c'è bisogno di fare così che io non ho detto la mia età so che non prega nessuno scusate momento di celebrità vai 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 a 28 scusate wow wow te ne porti bene ok secondo me Mario ne ha 24 grazie grazie ne ho ne ho perché ti ricordi che età ho Marco no allora aspetta 26 26 ne ho 25 sono del 98 abbiamo vissuto due anni nella stessa casa vabbè ma non vuol dire che ho solo le due cose diciamo sempre io do sempre gli spazi a chi mi dà gli spazi a me è bellissima questa filosofia non hai capito un c***o di quello che ha detto ti piaccio Leti ti piacciono le armi solo le catane ti piacciono le catane perché ti affascina questo sport le armi bianche non è uno sport si va bello in pratica in pratica cosa cioè esiste uno sport con le catane si si chiama catane scusa Letizia perché ti piacciono le catane non lo so penso da Kill Bill mi immagino attori Anzo no acciaio di Obinawa conosci conosci Kagura Bashi Letizia no è un nuovo manga dove le catane sono centriche ma che c***o vuol dire indovina cioè che quando combatti non è più così ma è così no no l'argomento catane è centrale l'argomento catana è centrale eh non l'avevi capito Marco no veramente no ha fatto volutamente va bene Marco hai una domanda non la fai da tanto certo su Kill Bill Tarantino a me piace un sacco perché finisce conino è anche il mio cognome che è Marino quindi è il mio preferito qual è di Kill Bill il villain quindi colui o con lei che combatte contro Beatrix Kid che ti piace di più bella domanda certo che bella non ricordo il nome ma la ragazza la Gogo ce n'è più di una ce n'è più di una la ragazza con la con la con la Morningstar sì esattamente Gogo la la l'abbraccio destro della 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 giappa americana mi ricordo sì anche a me piace però che risposta che tutti si aspettano se volessi prendere in contropiede invece che personaggio lo divesti non ho capito il mio spazio meno famoso sì sì qualcuno che dice minchia lei è brava ma questo qua ce la faremo ci sta quello gli piace giustamente il bill il bill è così o di piace o tra ragazzi io credo che i vostri talenti sono stati soverchiati dalle sapienti mani di marco e mario io non mi cito perché non ci si elogia ma è anche da dario lo dico io vai leti dove vado no no dico leti e carlo magno hanno sicuramente raccontato il loro essere e le loro attività e penso che ci sia speranza per tutti perché twitter è talmente democratico che riesce veramente a dare opportunità vi lascio con un lo stavi leggendo no vi lascio con un monito che vi può servire sì bella vi lascio con un monito che vi può niente che vi può aiutare nella vostra carriera ricordate sempre il falegname crea le mensole ma solo l'oggetto che ci applica il committente rende una scafalatura il top della personalità grazie amici stiamo scherzando questo consiglio Dario grazie stiamo scherzando ma non hai capito manco tu che cosa ti ha grazie che si dicono ringrazio applaudite ma avete sentito la p***a vabbè ciao ragazzi grazie grazie a voi è stato un piacere ciao ciao ragazzi vi chiamo vi chiamo in privato ciao 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 un bacio beh io vi chiedo soltanto una cosa non non scrivete nei commenti complimenti per la grande frase finale eccetera perché veramente si è si è sprecato Dario a partorire una minchiata sto giro non c'è scusa che tenga la cosa sulla mensola non ha senso da nessun punto di vista quindi caliamo laghi come si dice da me il falegname fa la mensola ma è l'oggetto che ci oggi non ce la faccio ma è l'oggetto che ci mette sopra la cliente che rende la scappalatura il committente che rende la scappalatura il top della pezzolità comunque l'inizio non voleva stare un secondo a dire è stato punto oddio sono contento che vi siete divertiti ragazzi tirate sempre il meglio di voi quando c'è da sparare qualche amicidio ma non è vero ma non è vero noi stavamo semplicemente facendo nuove amicizie Mario ma c'è vecchia scuola in che console followerino followerino te lo becchi te lo becchi o il mena forti però allora mi sa che mi iscrivo ma buono forti molto naturali naturali ma anche molto muti sono sicuro che una delle cose positive è che ascoltano tanto in realtà credo che sia una scelta artistica Marco sì 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 una cosa che non mi è tanto piaciocchiata è che Mario si è stato un po' sulle sue in questa puntata come mai ma che sulle sue ho parlato tantissime volte eh lo so ma poi lo sta passando un bel periodo sto benissimo sto benissimo sto benissimo e sono stato assolutamente dentro il gioco pronto no sì eh ci siete un po' troppo birbanti diciamo ma che ragazzi state tranquilli vi conosco ah Fedu the best si chiama il canale comunque ragazzi Fedu the best uno lo sì va bene Mario ma c'è mio fratello da voi sì sì c'è Ciccio penso che passo allora godo o come o come o come il come dico sempre io come il cameriere di Killua ce l'hai fatta ce l'hai fatta non hai neanche sentito la mia nerd citazione no no il cameriere della famiglia Zoldik Goto eh sì oppure Godor quello che affila la spada a Gatsu oppure stupido è du bravo bella volgarità gratuita indecente indecente non mi devo sempre Marco Marco c'è questa cosa o come dico sempre io o come lo chiamo io sì è vero è vero va bene fottuti perché devi dire il nome Claudio non sono fottuto comunque è stato un vero piacere Marco come al solito grazie per essere passato grazie a voi vabbè immaginavo la gag Marione ti ringrazio ciao Dario mi sei mancato Dario mi sei mancato ok